Queste cose tentano, al di là della minaccia di introdurre della pena di morte, anche ai diritti fondamentali, insomma, al diritto all'istruzione e al diritto, diciamo così, a quei diritti. Mi scusi il gioco di parole che proprio non possono non essere garantiti. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? La Turchia pretese non solo 3 miliardi più 3 dall'Unione Europea per risolvere un problema sostanzialmente della Germania e che rischia di ripercuotersi sull'Italia, perché ovviamente i siriani non vorranno rimanere in Turchia e cercheranno altri approdi all'Unione Europea, forse attraverso le rotte mediterranee che portano alle nostre coste, ma pretese anche un'accelerazione del processo di inclusione nell'Unione Europea. E questo dovrebbe farci pensare quanto noi siamo disposti a cedere rispetto ai diritti civili, alle libertà fondamentali e al fatto di essere un'unione tra Paesi che abbiano un'omogeneità. Io sono preoccupato quando sento Gentiloni o Lammogherini che pongono l'alto là solo sulla pena di morte, perché c'è molto altro prima della pena di morte. C'è la repressione adesso a fronte del colpo di Stato su magistrati, insegnanti che va oltre, molto oltre quelle misure già di per sé che hanno colpito l'opinione pubblica a danno dei militari con delle foto che adesso stanno correndo anche sui vostri schermi. Ma molto prima di tutto questo noi avevamo delle perplessità legate alla repressione verso il popolo kurdo, agli ostacoli verso l'economia italiana e al protezionismo rispetto alle imprese locali, il boicottaggio e il bavaglio sui siti internet, le violazioni delle libertà fondamentali. Da questo punto di vista sarebbe quantomeno doveroso porre un punto di domanda sull'ingresso della Turchia e a fronte di quello che sta accadendo forse le perplessità dovrebbero aumentare. E allora sì, il tema è del terrorismo, vedete anche ciò che ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, l'Italia piange le nostre sei vittime, ma la violenza non ci piega. Allora, molte cose assieme, Endrizi, però centriamola qui, senza fare un discorso in prospettiva su Brexit, vedremo che cosa succederà, la trattativa è molto lunga. Però il quintetto che si riunisce a Londra, il tentativo di un'azione comune anche con gli Stati Uniti e con la Russia, cosa non facilissima, per quanto riguarda la Siria, la convince? Guardi, i problemi devono essere gestiti a livello globale, perché altrimenti noi rischiamo di avere soluzioni di interesse per questo o quel paese e l'Italia da questo gioco rimane schiacciata. Rimane schiacciata soprattutto all'interno di una Unione Europea che non è una comunità, nella quale poi prevalgono le logiche di competizione, lo abbiamo visto sulla gestione di migranti, dove le soluzioni che fanno l'interesse della Germania vengono adottate e siamo ancora a chiedere quello che noi chiedevamo due, tre anni fa. Vi ricorderete in occasione della campagna elettorale per le europee, le cose che sento dire oggi da Renzi non le dicevamo allora, chiedere regole diverse, pretendere regole diverse. Invece la messa in discussione dell'accordo di Berlino ancora non viene fatta concretamente quando era in una nostra mozione del 2014. Lei si riferisce all'accordo di Dublino ovviamente, Andrizzi. Sì, regolamento di Dublino 3. Quello che ancora scarica sull'Italia è il peso di un'accoglienza, di una gestione di problemi che sono di geopolitica globale. Analogamente abbiamo a livello economico, ci si preoccupa di trattati come il TTIP che vanno a vantaggio delle multinazionali americane, si predispone già all'ingresso della Cina a pieno titolo nel commercio mondiale come economia di mercato, dimenticando che le manufatture italiane sono quelle che hanno più da temere e che perderanno posti di lavoro. Allora, se non si mette in discussione il principio che dentro l'Unione Europea non ci può essere competizione ma ci deve essere solidarietà, allora andremo inevitabilmente verso una frattura tra le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e quelle del Nord Europa. Ma questo è responsabilità del Partito Democratico che oggi è alla guida del Paese anche in seno all'Europa. Andrizzi che ne pensa? Mi dispiace di un doppio turno alla francese ma di un doppio turno all'italiana. fatto nell'interesse di alcuni, che sono sostanzialmente il Partito Democratico, che pensava di fare man bassa sulla democrazia. Oggi le cose sono cambiate perché con le amministrative è arrivato un segno di stop. Oggi Renzi sa che ha bisogno di tanti piccoli soggetti che oggi sono al 2% dal punto di vista elettorale e nasce questa formula di sbarramento, che non è uno sbarramento al 2%, che ha da un lato l'obiettivo di includere tanti piccoli allenati che non facciano codere il governo, dall'altra parte di fermare il cambiamento del Movimento 5 Stelle. Sono delle basi veramente antidemocratiche che vanno respinte in toto. Grazie Giovanni Esbrizzi, portavoce per rientrare il Movimento 5 Stelle al S.